Salve a tutti, sono sempre Matteo Montesi, dove c'è una notizia alza. Ancora un stop per il Bayern Monaco, questa volta a Frippurgo dove i pavalesi hanno ceduto 2-1. Cade con lo stesso risultato, il torno tra Bollsburg. Vittoria per l'Everkusen, Monsenna Blacca e Schempp, nel cialco. L'attesima giornata da Bolli-Spriga, Cattellini è giocato con Franco Porto 0-0, per il Depremo, non c'è da fare 0-2. Frippurgo, Bayern Monaco 2-1, Bayern Leverkusen, Emilio 2-191, oltre dopo 2-0, Schempp 04 a Patergolfo 1-0, Soprano da Bolli-2-1, poi a Cattellini con Baier Leverkusen, Monsenna Blacca, Schempp 04-2-1, Borussia da Bolli-2-1, Monsenna Blacca, Monsenna Blacca, Colonia 2-0, A羽ppurgo, Cattellini e Unbubi-1-2. Poi questo finisce qua, a Kitz, non so ancora con la Cattellini, no, finisce così, a Bolli-9-2. E neanche questi sono tutti i risultati che ha il campionato tedesco. questa è la notizia questo è tutto vi avanti le news arrivederci arrivederci alla prossima non c'è pappa arrivederci alla prossima